Sarà all'avanguardia, rispetterà l'ambiente e riuscirà a dare una risposta importante non solo alla città di Fano ma all'intera regione. Proseguono a buon ritmo i lavori per l'impianto natatorio realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in via Mattei, nella zona dell'aeroporto con accesso da via San Michele. Questa mattina FanoTV ha fatto un sopralluogo al cantiere insieme ai vertici della Fondazione, ai tecnici, ai progettisti e all'amministrazione comunale. Prevede una spesa complessiva di oltre 6 milioni di euro e di questi 6 milioni di euro già un milione e mezzo sono stati erogati per gli stati d'avanzamento che si sono realizzati. La prima lettera di intenti che prevedeva la realizzazione a Fano di questo centro natatorio addirittura del 2016 è stata firmata dal mio predecessore dall'ingegner Tombari. Questo progetto racchiude funzioni sportive ma anche sanitarie e di riabilitazione, non solo sport ma anche benessere e riabilitazione. L'area sportiva è dotata di tre vasche, la prima delle quali di 25 metri a 8 corsie con tribuna per il pubblico, la seconda di 12 metri per l'avviamento al nuoto dei ragazzi e la terza di 8 metri per i bambini. A completare la struttura ci saranno delle aree servizi con bagni, docce e spogliatoi oltre ad un bar ristoro. Il progetto è stato predisposto in modo tale da poter realizzare in futuro una piscina olimpionica di 50 metri e un ampliamento dei parcheggi. Nell'area sanitaria invece, oltre alla vasca di 20 metri quadrati per la riabilitazione, ci saranno l'ambulatorio medico, le sale per le terapie fisiche e strumentali, la palestra e gli spogliatoi. Nella nuova struttura abbiamo due ingressi, uno separati, uno per la zona sportiva della piscina vera e propria e l'altra per la struttura sanitaria. I due ingressi sono collegati con i parcheggi antistanti alla piscina e collegano con spazi che sono in corso di realizzazione. In questo momento all'interno della zona sportiva è in corso di realizzazione la copertura, il solaio di copertura della zona spogliatoi veri e propria e insieme con la tribuna potrà ospitare circa 250 persone. Come potete vedere è abbastanza avanti il candiere, tenendo presente che l'unica problematica che possiamo trovare adesso è nel montaggio del tetto, perché il legno proviene dall'Austria e forse con le restrizioni che ci sono con la pandemia forse slittera di qualche mese. L'impianto sarà poi affidato in usufrutto trentennale al comune di Fano che aveva ceduto l'area di circa 3 ettari. Vediamo crescere questa piscina tanto attesa da tantissimi anni, ma soprattutto una bellissima struttura che sarà in grado di dare risposte importanti, ma con tutto anche gli interventi esterni che guardano la mobilità, le ciclabili, quindi veramente un bel progetto che si inserisce anche in un contesto cittadino e non solo, perché questa struttura, non dimentichiamolo, anche per la sua ubicazione sarà importante per la vallata e anche per i comuni limitrofi, per cui una bella risposta al mondo dello sport, agli appassionati di nuoto, ma soprattutto un bel servizio.